Sfruttate ogni minuto della giornata, vi li pese e trattate come macchine per fare soldi. Quattordici donne sono state liberate dalla polizia spagnola in un'azione portata avanti nella regione di Murcia, Alicante, Almeria e Valencia. Sei locali sono stati chiusi e venti persone sono finite agli arresti. Gli Aguzzini, per l'accusa, una banda dedita alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, possesso illegale di armi, riciclaggio di denaro. Le donne erano costrette a prostituirsi 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Un giorno di stop per malattia poteva costare loro fino a 400 euro di multa, una pausa per fare una doccia o riposarsi fino a 200 euro di multa. Molte di loro avevano contratto debiti con i loro sfruttatori per migliaia di euro. Vivevano nell'ombra, senza assistenza sanitaria, costrette a drogarsi con i loro clienti, spiate e esposte anche al rischio di Covid-19. Ora il loro incubo è finito.